via libera del consiglio regionale a diversi provvedimenti legislativi il collegio regionale di garanzia statutaria conferma l'illegittimità del decreto di d'alfonso per le nomine dei dirigenti i neocompagnatori di media montagna riuniti all'emiciclo in occasione dell'approvazione della legge re aspa consegnati a pescara i premi d'annuncio 2016 la seduta settimanale del consiglio regionale è stata caratterizzata dalla discussione di numerosi provvedimenti legislativi nel dettaglio sono stati approvati la legge sulla istituzione della rete escursionistica per lo sviluppo delle zone montane il progetto di legge per l'edificazione di annessi rurali nelle zone agricole ricomprese nelle aree del catere sismico e la legge sul caregiver familiare sempre tra i provvedimenti legislativi si registra l'approvazione della legge che modifica la disciplina delle acque minerali termali e l'approvazione di un contributo di 200 mila euro nei confronti delle imprese del settore terziario del porto di pescara che hanno subito danni a causa del mancato dragaggio. Tra le altre novità legislative approvate ricordiamo la modifica alla legge regionale 77 del 2000 con la previsione di escludere dei benefici economici regionali quelle strutture a belghiere che ospitano i migranti. Infine è stata approvata la norma che consente al personale della regione Abruzzo di anticipare l'uscita del lavoro avvalendosi dei requisiti della cosiddetta legge Preforner. La regione sosterrà il costo di sei mensilità per il mancato preavviso concesso i dipendenti ed il provvedimento consentirà di snellire l'organico regionale di circa 170 unità professionali. L'ultima seduta del consiglio regionale è stata dedicata nella sua prima parte alle interrogazioni consigliari e all'approvazione di alcune risoluzioni che impegnano la giunta su vari temi. Il consigliere Mario Olivieri ha visto approvato il suo documento sulle vicende lavorative dei ricercatori del Cotier mentre il consigliere mercante ha portato all'attenzione del governo regionale il problema di sicurezza legato alla diga di Campotosto. Con la sua risoluzione mercante chiede l'attivazione di un sistema di allarme per prevenire il rischio di inondazione della valle del Vomano e delle aree limitrofe. Passa in aula anche la risoluzione di Emilio Iampieri con la quale si tenta di evitare la chiusura del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Avezzano. Tra gli altri provvedimenti adottati è anche il bilancio di previsione del consiglio regionale per le annualità 2017 e 2019 ed il contributo di 500 mila euro alle province per il piano neve. Il decreto del presidente della regione Abruzzo con il quale D'Affonso avoca a sé tutte le funzioni riguardanti ogni incarico dirigenziale della giunta regionale nonché la proposta e la designazione dei rappresentanti degli organi amministrativi di vertice di enti e aziende controllati della regione è illegittimo. E quanto risulta dal parere espresso dal collegio regionale per le garanzie statutarie. Questa mattina in una conferenza stampa all'emiciclo i consiglieri regionali di Forza Italia Paolo Gatti e Lorenzo Sospiri hanno posto il risalto quanto rilevato dal collegio regionale per le garanzie statutarie a seguito del parere richiesto dai consiglieri regionali del centrodestra. Questo decreto del presidente della giunta regionale di aprile che noi subito abbiamo osservato dicendo che era palesemente illegittimo, violava leggi regionali, voleva riassumere in capo al presidente della giunta regionale i poteri che non ha di proposta, designazione, nomina di dirigenti, direttori, membri di consigli di amministrazione. Questo non si può fare, non si poteva e non si può fare perché la legge regionale prevede altre procedure. Non siamo stati ascoltati come al solito i consigli che abbiamo dato. Adesso arriva l'autorevole parere del collegio della garanzia statutarie e dice che questo decreto è illegittimo. Noi invitiamo il presidente della giunta regionale a correggersi, a revocare un decreto dichiarato illegittimo e anche tutte le nomine fatte in conseguenza di un decreto illegittimo. Rispettare le norme dell'ordinamento giuridico regionale è cosa giusta e spesso è anche una cosa molto utile. In concomitanza con la recente approvazione in aula della legge cosiddetta REASTA che istituisce la rete escursionistica alpinistica speleologica torrentistica d'Abruzzo, i consiglieri Pietrucci e Monticelli, sostenitori del provvedimento, hanno riunito all'emiciclo una delegazione di accompagnatori di media montagna di nuova formazione. Si tratta di 59 professionisti che hanno partecipato ad un corso durato circa un anno. Un'iniziativa messa in campo con la collaborazione e l'appoggio della regione che ha affidato al collegio delle guide alpine d'Abruzzo l'organizzazione del corso di formazione. Il consigliere Pietrucci parla di una svolta epocale per la montagna e lega la legge di recente approvazione ad altre che hanno agito nello stesso ambito, come quella sul freeride e sui mestri di sci, la cornice del distretto turistico di montagna, il finanziamento strutturato al soccorso alpino. Il capoluogo abruzzese, ha detto Pietrucci, può aspirare a diventare una vera e propria Katmandu degli Appennini. Monticelli ha invece sottolineato come negli ultimi anni ci sia stato un vuoto che ha messo in secondo piano la montagna abruzzese. Secondo il consigliere PD, la rinascita passa senza dubbio dall'integrazione con il mare, ma c'è bisogno di un lavoro di valorizzazione di tutte le ricchezze, cultura, enogastronomia e tecnologia. Sono andati a Daniele De Ritis per la pittura e Tonino Macri per la scultura i primi premi della 24esima edizione del concorso internazionale di pittura e scultura d'annunzio, assegnati nel corso della cerimonia che si è tenuta nel pomeriggio di domenica scorsa presso l'Aurum di Pescara. La giuria presiduta dallo storico dell'arte Giovan Battista Bendicenti ha riconosciuto nell'opera Non nasconderti del giovane pittore di Montesilvano De Ritis una perfetta prova di iperrealismo di derivazione fotografica, sostenuto da una indiscutibile abilità tecnica e animato da una notevole forza espressiva. Mentre l'opera Cavaliere dello scultore di Bellanti, Tonino Macri, è stata valutata come un'opera essenziale, un monumento equestre in formato ridotto scolpito con estrema maestria tecnica manifestando un gusto classico e moderno allo stesso tempo. Nel corso della cerimonia sono stati inoltre assegnati per la sezione pittura i secondi premi ex equo a Elisabetta Scaloni e Antonio Altieri, mentre il terzo premio è andato al pittore trentino Giuliano Ronelli. Per la sezione scultura sono stati assegnati i secondi premi sempre ex equo a Carla Cervaso e Tonino Santeusagno. Durante la manifestazione, che anche quest'anno ha fatto registrare una grande affluenza di pubblico, sono stati assegnati più di 80 riconoscimenti ad altrettanti artisti scelti tra i 400 che hanno partecipato al concorso, riconfermando al premio d'annuncio il suo ruolo di importante vetrina artistica a livello nazionale ed internazionale. La giuria dell'edizione 2016 ha avuto come madrina la scrittrice e giornalista Daniela Peti ed è stata composta, oltre che da Giovanni Battista Bendicenti, da Mara Ferloni, Massimo Giuliano, Maria Rosa Barbieri e da Silvia Moretta, critico d'arte. Tra le numerose autorità intervenute, anche il presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale, Mario Olivieri, in rappresentanza della regione del Consiglio regionale dell'Abruzzo, enti patrocinanti l'evento, il sindaco Marco Alessandrini e l'assessore alla cultura di Pescara Paola Marcheggiani. Al termine della lunga cerimonia, Monier, lo storico presidente dell'evento culturale, ha annunciato che dal prossimo anno la gestione dell'evento sarà affidata alla dottoressa Ezilde Ferrara. Grazie a tutti.